Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Ingredienti sono latte, succo di mandarino, scorza di mandarini, zucchero, uova, amido di mais, vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza. Reazioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte, le uova, il succo di mandarino, la vanillina e l'amido di mais. e lo facciamo cuocere per 8 minuti 90 gradi velocità a 4 La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare completamente. crema al mandarino ideale come dolce al cucchiaio o per farcire crostate, bignè, torte grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.